Con Eugenio Vannozzi invece adesso parliamo della sua storia di giostratore e delle imprese che ha fatto nella giosta del Saracino. Allora inizia che io insieme a mio babbo l'aiutavo a portare i cavalli in piazza perché allora i cavalli non è che il giostratore l'aveva tutto l'anno e li portavano tre o quattro cavalli e lui fra questi tre o quattro cavalli doveva scegliere quello che ha dato alla giostratore e io l'aiutavo a portare i cavalli in piazza. In quell'anno lì Chianese era passato a Porta Crucifera e lo sospetto doveva il fratello sempre di Milano a Porta del Foro. Inizia lunedì che inizia le prove Chianese fa la prova lui essendo Mancino che anticipava il colpo perché sta un pochino più avanti e quando colpì il Mazzafrusto, non il Mazzafrusto, il cazzotto lo colpì sulla testa, il braccio del Burratti. Il braccio del Burratti lo colpì alla testa, insomma alla tempia e lui dice basta scendolo. Gli bastò quel tiro per decidere di non andare avanti. Porta del Foro non aveva giostrattori e io aiutavo a portare i cavalli e facevo qualche sgaloppata in piazza e volevo che io tirassi in tutti i modi. Porta del Foro voleva che tu tirassi? Ma però io nell'esperienza a cavallo non c'avevo niente, sì c'era montata a cavallo però non è che... Diciamo ero un esperto. Ero esperto, sì che una volta mi ricordo che andavo giù e Biri mi porta la lancia dai tira tira e Biri mi dice ma che fai no? Però non è che fai a voce guardandomi no? Ti lancio allo sguardo per dire stai fermo. Stai fermo e rinunciai sapendo che il colpo non è che vedevo loro. E niente, allora non so mica se andarono a cercare uno il brutto. Questo non... Questo non mi ricordo bene perché sai sono ricordi un po' lontani. E lì finisce, passa una diecina d'anni. Era il 64. Sì, il 64. E dopo cosa c'era? Dopo l'anno dopo mi sembra. Ma perché c'era... Quando Farsetti venne a trovare mio padre, che non stava tanto bene, io lo so se si scambiarono qualche promessa di farmi provare, forse... Non so come... Come... C'è stato perché fatto sta che Farsetti mi convoca con Cidroni e iniziò a fare qualche prova. Però Farsetti era uno che so un po' esperto, a quei tempi lì era un esperto di cavalli, no? E aveva vinto anche tanto. Aveva vinto anche tanto, sì che era considerato... Certo. La sua parola valeva a tutto. Valeva, sì che io faccio una prova... Faccio una prova e... Non è che vado male. Feci un 3, però insomma, feci un 3 un po'... Un po' alto. Fortunato, no? Diciamo un 3 fortunato, rimane in donzella che però... Insomma, uno che se un po' se ne intende vede subito che... Certo. Insomma, c'è fu un po' di difficoltà. E sì che lì, stop. E lì si interruppe... Si interruppe... Momentaneamente... Momentaneamente con Porta Crucifra. Con Porta Crucifra. Ma tu dopo hai continuato a montare, a fare qualche prova oppure... Sì, sì, sì. Ah, nel frattempo... Un altro appassionato era Mario Capacci. Sì. Appassionato di cavalli e... E nel frattempo mette su il maneggio. Allora, lui... La grande volontà di fare la giostra. Io lo stesso... Insomma, dopo aver venuto fuori in amicizia... E... E io andavo a montare da lui. Ma passa... Passa il tempo... Passano gli anni. Passano gli anni. A un certo punto... San Lorentino... C'aveva una coppia di... Di giostratori. Di giostratori di Foligno. O Ascoli. Non so. Vengo in Arezzo. E uno fa... Zero. Ma non zero. Io... In quel modo lì mi sembra un... Come si dice... Vedere... Un circo. Uno che ha fatto... Sì, sì. Il circo. Perché come colpisce il buratto. Viene disarcionato. Con la capriola all'indietro. Addirittura. Io proprio... Cose mai viste. Mai viste. Zero. Il secondo giostratore... Li dice... Li prendono la lancia. Li consegnano la lancia. Riescono a prendere sta lancia. Gli ne incrinano, no? Secondo... Le leggende. La leggenda. Gli ne incrinano. Dice... Vai, vai giù. Te spezza la lancia. Questo per la paura... Non sapendo la lancia come fa... Dice... E questa dice... Inclinata. Si mi viene addosso. E non colpisce. Non colpisce. Nel frattempo... Capace aveva giostrato a Sant'Andrea. Sì. Che era al 70... Mi ricordo. Sì. I primi anni 70. I primi anni 70. E allora... Va da Tripolino. Gli dice... Io avrei due giostratori... Da farti provare. E Tripoli fa... Dice... Oh... Ma il male si farà come... Peggio di così non si può fare. E allora... Ci fa fare le prove giù. E Mario Capacci aveva creato una specie di centro di equitazione a Retino? Sì. Mario Capacci, grande appassionato... Anche lui il centro l'aveva creato per... Per sé. Per sé. Per ambire a fare la giostra. Chi c'andava lì oltre te a montare? Io... Maurizio Gori. Poi i giostratori... No... Ah... Però di fatto... Poi dopo... Secolo Imparati... Venne da voi? Secolo Imparati... Ci ingaggia. Mi ricordo... Dice... Oh... Io... Lepiglio... Però... Le... 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 Come si dice... il quartiere è scassato non c'è una lira quindi non chiedete non mi chiedete e insomma se va a fare le prove ma tu nel 73 quando inizi a fare le prove che il secolo imparati vi chiama eri in ballottaggio tu Maurizio Gori e Aurelio Zelli è vero? che vi comunicarono la scelta solo il venerdì al termine delle prove della settimana? sì come fu quella settimana di prove per te? beh non oggi non succederebbe mai non mi ricordo di tutto però la voglia era tanta io ero ai puntiagini però la voglia di dimostrare di arrivare a fare il titolare era qualsiasi ragazzo che ambiva la giostra e anche tutti questi ragazzi che di ora o anche prima che avevano il cavallo era l'ambizione da riuscire a fare la giosta e io dopo essendo riuscito a farcela ora il ballottaggio non mi ricordo però venisti scelti te e Maurizio Gori sì non so se l'aiuto che ci fu dato che Aurelio con una cavalla veloce andò a finire sotto le loggie ora non capito non mi ricordo lui rinunciò però diciamo che Aurelio insieme a Mario è stato il nostro maestro ma più che altro Aurelio sì? sì maestro di lancia o di cavallo di cavallo di cavallo vi insegnò proprio a montare sì e quindi fai l'esordio il 2 settembre del 73 a Porta del Foro l'anno dopo al secondo anno l'anno prima se avevano imparati vi ingaggia e dice peggio di così non si può fare nel 74 vincete la lancia d'oro a Porta del Foro che ricordi hai della tua prima vittoria in piazza un ricordo che ma forse è facile fare la giostra no nel senso che per il primo anno 73 quasi si riuscì a vincere perché il famoso colcidrone e la lancia la ributto dentro casco la lancia alzama non mi ricordo i famosi calci all'epoca che si davano sì capito e Romeo dice grazie a me fa sempre no che 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 avevano vinto che lui la lancia la ributtava dentro la sciaccava e finché il 74 se vinse forse però non è così non era dice all'inizio ti sembrò quasi facile vincere come si dice come il pescatore che va la prima volta che va a pescare e prende di tutto la fortuna del principiante la fortuna del principiante poi dopo comincia a essere invece la giostra com'è Eugenio è dura la giostra è dura la giostra è non sei mai sicuro di vincere la vittoria che io ero sicuro del punto quando ero passato il buratto prima mai prima mai prima c'era sempre quell'emozione quella carica che te dovevi sempre mantenere la concentrazione perché qual è la cosa più difficile quando giostravi te che si doveva gestire nel fare una carriera l'emozione la piazza il cavallo l'emozione del principiante perché c'è sempre il chiodo fisso del punto che te passa dopo negli anni te passa perché dicevo l'esperienza l'esperienza è in gioco se viene viene se non viene però i primi anni pesava pesava non te cosavi non te non te riusciva a liberare un pochino la mente rilassati certo e poi dopo dopo la prima vittoria passi tre anni senza vincere poi dopo arriva passa tre anni un po' disastrosi perché disastrosi eh perché sempre Enrico sempre Enrico e sempre cavalli nuovi riuscivi capito non riuscivi mai all'epoca ancora i cavalli si sceglievano durante la settimana delle prove no li sceglievi un pochino prima però non è che era il cavallo tuo te ne portavano qualcuno e sceglievi se va a provare quello se va a provare quell'altro però non è che eri c'era una domestichezza col cavallo nel 73 sette torni alla vittoria spezzando la lancia come andò quella lancia quella carriera rompendo la lancia allora quella mi ricordo di tutte le prove perché io venendo da un periodo burrascoso affiancare nono dice fai ballottaggio te e questo qui e io c'avevo questa cavalla Medina si chiamava perfetta precisa anche anche troppo sotto che se non se non colpivi buratto ci ti appavi perché pure che era proprio non si spostava non aveva paura di niente sì che lui lui 4 io 4 lui 5 io 5 insomma era sempre un sopravvalutarsi dei dei punti e dopo la scelta scelsero me e si va a fare la giostra a fare la giostra 3 e spezzai la lancia 6 punti insomma non era un punto però il raddoppio però il raddoppio e Maurizio venendo da un periodo buono anche lui questa volta fece uno se va a spareggi con Sant'Andrea come fu lo spareggio? lo spareggio e cosa fu una sfortunata per Ricci perché Ricci era considerato un fenomeno un fenomeno e fece due e io dopo mi bastava tre tirai a tre e e arrivò la vittoria e arrivò la vittoria poi dopo tu prosegui con Porta del Foro e non ci sono però più vittorie e si chiude il rapporto con Porta del Foro come si apre come arrivi a chiudere il rapporto con Porta del Foro e a passare a Porta Crucifera si chiude perché allora vedendo due anni di male io non è che voglio tirare per forza se i risultati non vengono avanti un'altra avanti un'altra avanti un'altra dico io dia delle dimissioni e Tripoli mi fa dice che fai dico guarda Tripoli dico io non me la sento più perché non è che faccio una quintana per me insomma una nascingana qui corro per il quartiere se i risultati non vengono quindi tu avresti il coraggio di andare da Tripoli a degli io lascio perché non c'è l'artezza c'era la scena perché prima c'erano le scene solo dei figuranti dopo la giostra parlare a pubblico per me era sempre stato difficile però dice Tripoli che fai e che faccio non è che corro per me dico qui do le dimissioni perché i punti non vengono e fai sta fila e lui? e lui accettò un applauso a quel modo penso dalla contentenza dei carceristi sì non l'hai mai ricevuto non l'avevo mai ricevuto e così smetto attacca i stivali a cioto passa l'inverno sempre in primavera viene Morelli Tonino e Tonino dice vieni con noi a fare la riserva che vengo a fare dico ci avete Enrici e Tapanelli io che faccio lo spazzino e insomma no insisti insisti saranno venuti 4-5 volte alla fine mi convincono a fare la riserva a quell'altro e poi fare la riserva a Ricci e Tapanelli il posto non ci è però non è un disonore fino a un certo punto e allora accetto però me ne pentivo dico sempre fino a perché ma che cavolo ci sono andato a fare non eri convinto di creare non ero convinto nel frattempo Ricci era l'80 aveva venduto Robi no vendeva Robi e lo preso io no questo è l'82 perché io prima la prova in piazza l'ho fatta sì nell'81 in Porta Crucifera un tiro solo con la cavalla che aveva Sassi Lorentino sì l'Etruria e poi dopo e poi in Ricci l'81 sì fanno la giostra loro e la vendeva io ero lì con loro a fare la risposta la vendeva e allora io presi Robi e la Valentina l'ha presa il mio amico Lucani si fece un coso e presi questa Robi passo a Nanno io monto Robi si arriva all'82 a fare le prove in piazza si arriva la domenica il lunedì della giosta si va su dice ci chiama il capitano dice allora guarda allora io decido capitano te dai Robi a Tabanelli te qui e loro ti danno un cavallo no dice io Robi l'ho comprato io e lo tengo io perché il destino a volte si crea in un in un secondo in un altro perché io con Robi mi ci trovavo bene faccio le prove in piazza non sbagliamo un colpo insomma diciamo che Robi mi ha rilanciato quindi si era creato quel binomio che oggi si parla del binomio se il cavallo era anche veloce era il vento in piazza però ti ci trovavi bene io ci trovavo bene perché c'era un galoppo fitto veloce te colpivi il buratto non sentivi il colpo e alle tue parole il capitano come reagì? sarà biolo dice come? dico io ho speso i soldi io vorrò difendere i miei interessi i miei interessi nel senso se faccio le prove vado a fare le prove con un brocco ma certo se invece sono bravo ma non è che io voglio togliere il posto a loro volevi dimostrare il tuo valore e così Robi diciamo che mi ha ti ha rilanciato mi ha rilanciato vado a fare le prove con Robi ma non è come ora che tutti dentro c'era i tempi prima facevo le prove registratori e poi toccava a te in fondo sicché Robi mi faceva la cosa bene ma però il tempo mio era sempre poco io tiravo bene però io mi mettevo in fondo da una parte quando loro avevano finito toccava 5 minuti 2 minuti quello che rimaneva che rimaneva si arriva all'82 non 83 l'anno 82 l'82 e Ricci aveva Foligno sì esatto Foligno e sabato sera lui doveva presentarsi se no se non faceva la sfilata non poteva correre non poteva correre sì che e Ricci mi fa lo dico a te ma lo dico a nessuno nel senso non faccio sapere niente a nessuno io lo sabato non ci so in tutti i modi nessuno sa niente sparisco sparisco te preparati preparati che te cose e allora il quartiere il capitano elettrone non sapevo niente che durante la sfilata delle prove chi voleva andare a prenderlo con l'aereo che cosa allora se fa queste prove e Ricci io ti insegno allora io ho chiesto a Ricci a me mi devi insegnare come si fa a togliere la vibrazione della lancia e lui te la insegnò lui me la insegnò mi disse te t'alzi in sella punta dei piedi ah fu una mano salta sì perché tu colpivi da seduto non proprio da seduto però non c'avevi quella sospensione quella sospensione quel piccolo trucco che magari i tripodi giù a San Laurentino ti dico però nessuno aveva l'esperienza del Ricci del Ricci perché il Ricci all'epoca era un cavaliere a livello nazionale sì che detto in quel modo lì risolti tutti i problemi miracolo sì che i robi che andava bene io avevo solito i miei problemi sì che sì che si va al sabato si va a fare la giostra ma il 4 che è proprio perfetto perfetto e qui ritorni in gioco definitivamente a Porta del Ricci però io ero sempre secondo secondo però dimostri tutto il tuo lavoro dimostro sì di essere riuscito a a superare perché le prove andavano bene e il corso e il punteggio la domenica e si va all'anno successivo sempre in rotazione e il robi va sempre bene il cavallo che il robi se io quando lo montavo io era puro nel senso tranquillo nel senso lui era robi quando lo montava il ricci e il mio figlio mi fa ma io lo montavo con il filetto so io perché lo montavo con il filetto con te era un cavallo con me era un cavallo con lui era una pecoretta ho capito ascolta poi dopo Porta Crucifera sta alcuni anni senza senza raccogliere vittorie fino a che nell'86 arriva il famoso cappotto no sì allora nei primi tiri Porta Crucifera andava sempre bene sempre otto però ne spareggi non riusciva mai a raccogliere che lì non è che i spareggi dice allora chi li tira i spareggi non a me a Ricci e Tabanelli Tabanelli faceva io che capitano non avendo polso magari ragionando meno ragionando meno e tirava sempre i tabanelli i tabanelli nei primi tiri era formidabile però dopo nei spareggi non lo so si spengeva come illustratore non riusciva a ripetersi a asprimersi e dopo si arriva all'86 86 come va? si arriva all'80 Marco arriva all'85 l'85 si si arriva all'85 e viene al campo al campo da Gamberi si presenta e io si dice Marco Filippetti e insieme a Roberto a Mazzeschi sì e io Eugenio però non è che ci si mette a parlarsi io non è che sono da assomigliare un pochino a mio papà infatti Marco rinfacciava bonariamente quando ci sei presento ti dice eh sì vabbè stavi sulle tue e finisce lì e invece è stata una coppia d'amici che ha fatto ha rinnovato la storia in Porta Crucifera e come nasce quel cappotto nell'86 allora cambio cavallo perché Roby l'anno prima insomma era ingestibile montandolo sempre puro però Roby quando si arrivava a Pozzo voleva partire prima di arrivare alla partenza perché lui era cavallo puro nel senso lui voleva la carriera e allora in quell'anno lì mette sotto Filippetti perché lui arreggendolo anche lì che succede dico Marco quando si arriva laggiù lascia non ti preoccupare invece è un istinto che te se il cavallo si acida lo devi arreggere no certo e allora lo travolge lo mette sotto mi metto lo sotto io perdo una staffa vado a tirare a buratto con una staffa sola cavallo veloce in quel moto feci un tre e mi persi la lancia insomma lì e lì si decise di cambiarlo e si prende il bourdignon si prende il bourdignon da Giacomoni mi sembra che lui Giacomoni correva a Saspir si si prende il bourdignon si va a fare le prove la prima il secondo giorno martedì se rupe la vado a colpire se rupe la cosa la staffa si che io gira 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 quasi cascai mi prese il tapanello in braccio sotto le logi però nel colpire che si rupe la staffa io prendo uno strappo sulla gamba si che un dolore e rimango fermo fino a venerdì rimango fermo fino a venerdì e dopo la domenica e giovedì e venerdì faccio la prova insomma riesco a colpire però è un dolore si va la domenica la domenica e e se va a tirare Marco insomma si andò tutti a Spareggi con sei tutti con sei e dopo Spareggi li fa Marco perché io ero menomato e insomma si riuscì a vincere quello lì quella fu una quando io colpì il buratto che feci tre è il dolore perché te quando colpisci che stringi devi stringere la coscia si che proprio mi batteva proprio dove è il dolore insopportabile insopportabile io ho fatto il mechino mechino sul collo del cavallo dico e via lì però anche lì io potevo dire no però la voglia era tale la voglia ragazzi chi c'era nel sangue difficilmente lo abbandona si sacrifica su tutto lì di fatto comincia una storia importante e si apre un racconto indelebile sia della giosta del Saracino che di Porta Crucifera perché poi dopo tu e Marco Filippetti comandate un'epoca della fase della giosta del Saracino dove vincete tanto siete la coppia una delle coppie da battere in quel periodo perché di fatto arrivate quasi a vincere una lancia ogni anno un anno sia un anno nuovo e vincete le giostre in continuazione è vero fu una coppia e pensare se dice ora dicono i cavalieri si devono affiattare devono stare insieme noi ci si vedeva sì una volta ogni tanto così per trovarsi però col cavallo che è il periodo della giosta la settimana della giosta e basta e basta però ci bastava era favoloso il nostro il feeling che avevate ecco sì nessuno reclamava perché durante gli anni c'era anche qualche anno che andava male ma nessuno che si sia lamentato dell'altro si dice perché qui perché là nessuno capito era c'era un rispetto reciproco che era qualcosa quel rispetto reciproco di cui parlate adesso può essere stato anche un valore aggiunto nella coppia per raggiungere tutti questi risultati tutte queste vittorie io penso ci deve essere ci deve essere in una coppia un affiatamento un rispetto reciproco una fiducia un'amicizia qualcosa che è al di fuori della giosta dell'aspetto tecnico sì perché noi allora non è che stai in Colcidrone perché hai visto c'è chi ti tira di qui di là io anche in quei tempi là c'era l'opposizione c'era le cose per me erano era un Colcidrone tutti di Colcidrone tutti di Colcidrone stavi una volta con quello una volta con quell'altro non è che ti fossilizzavi su quello o sull'altro sì che forse è stato anche quello lì quello che ci hanno Colcidrone ci ha avuto bene a tutti i due anche lui era lo stesso non è che perché sennò c'era sempre quello che ti tirava da una parte da un'altra o da quell'altra che ricordo hai tu di Porta Crucifera da giostratore c'è un episodio particolare che ti è rimasto scolpito nel cuore e ci rimarrà per sempre nella tua vita da giostratore con Porta Crucifera c'è c'è che io ho lottato per rimanere in Colcidrone perché io nell'86 i figuri mi volevano cambiare con con un altro giostratore bravo però forse quello non ci è venuto per rispetto mio forse non lo so sì che non è che mi è dovuto tutto così certo te lo sei conquistato io qualche anno potevo sbagliare però l'anno dopo ti rifacevi ecco mi sono e il posto in Colcidrone l'ho lottato sempre fino all'ultimo per averlo quindi magari fino all'ultimo no però i primi tempi hai dovuto sudare ho dovuto sudare e è stata proprio questa ciò che ha fatto la differenza la voglia di raggiungere quel risultato ad ogni costo e di essere giostratore titolare di Porta Crucifera che ha fatto fare la differenza e questa è forse anche un po' di fortuna un po' di cadire quella ci vuole sempre quella è perché io non è che so come si dice giostratore autodidatta c'è da Mario ti sei costruito da solo ecco so costruire da solo a me mi è bastato quel consiglietto piccolo del Ricci che ti ha fatto fare la differenza che ti ha fatto fare la differenza però non è che hai capito una grande scuola di Cavaglio che so come Alessandro certo è un'altra storia si è cresciuto io ho iniziato a 27 anni a giostrare insomma chi è la persona di Porta Crucifera nel mondo della giostra o nel mondo della giostra non solo di Porta Crucifera quella che ti è stata più vicino quando sei stato giostatore con cui avevi più confidenza con cui ti confrontavi di più no diciamo Giorgio Suffino Piomboni questi ragazzi che erano nel consiglio della mia età che erano più vicini più vicini sì e poi dopo tutti gli altri erano come si dice tifosi insomma il rispetto però erano tutti quartieristi quartieristi di accesa di accesa passione che erano più vicini che erano più vicini Grazie a tutti